oggi parliamo dei capelli di sanzone i capelli di sanzone una grandissima leggenda che ci accompagna da quando siamo bambini rientra nel nostro immaginario collettivo quindi l'estensore deve sapere questo aspetto di che a una persona che gli si tagliano i capelli perderà le sue forze come sanzone grazie grazie